Andrea, io inizierei questa Watch Talk con un bel brindisi. Salute! Salute! Come forse avrete già capito, siamo da Elysium, in centro a Milano, in via Pergolesi 1, nel nuovo negozio, fresco d'inaugurazione, fare un bel Watch Talk con Andrea, trusted dealer di Mondaniweb, che ci fa vedere un po' qualche bellezza che tratta in questo periodo, lui grande afflusso di clienti, clienti anche molto importanti, ci parlerà di quello che oggi è veramente richiesto sul mercato, cos'è più facile o meno da reperire, di tante altre cose. Grazie Andrea. Allora ragazzi, iniziamo col dire che oggi va per la maggiore tutto quello che è nuovo, cioè le richieste sono per orologi 2023 e 2024, prettamente. Al di là di qualche referenza, magari quando parliamo di un Hulk, è più richiesto rispetto a uno Starbucks, ma sono dei casi molto rari, di norma tutto quello che oggi viene chiesto è tutta roba fresca di ritiro, tutta roba appena uscita, appena entrata in produzione, scusate. Che poi, pensa, magari questa tendenza cambierà e non vorranno più quelli appena usciti di produzione, ma varranno di più quelli dei primi anni di produzione. E mi farò quattro risate perché parlo con un sacco di collezionisti che sono proprio fissati con gli ultimi esemplari prodotti, quando io sono sostenitrice del concetto che in realtà non cambia nulla, ma anzi, la prima serie spesso è molto più importante dell'ultima, soprattutto i modelli ancora in produzione. Sì, allora, diciamo che ormai le prime serie e le ultime non hanno le differenze che avevano un tempo, quindi parlando di orologi vintage, differenze di mark, cioè prendiamo ad esempio Batman, Batman da quando è 126, non c'è un cambiamento di mark, di font, niente, sono sempre rimasti quelli dal 2018-19 che è entrato in produzione fino ad oggi. Il Pepsi, c'è una lieve differenza nella ghiera da mark 1 a mark 2, la mark 1 considerata di produzione 2018, dal 2019 è entrata in produzione la mark 2, si dice per difetti. Vogliono comunque il mark 2 anche se è stato prodotto per più anni. Esatto, e lo pagano anche veramente 3-4 mila euro in più, cioè su un orologio da 20 mila ne aggiungono 3-4 per avere un 2024 nuovo. Ad oggi è così e, però di più, un 2024 nuovo, 24-25 si vende molto velocemente, un 2018 a 21 si fa anche fatica, perché prediligono tutti quelli che vogliono oggi un Pepsi, lo vogliono un nuovo. Vedi, io sarei una clienta tipica, io ti prenderei invece il 2018, assolutamente. Ad oggi purtroppo è questo, cioè il mercato chiede tanti orologi nuovi, parlando invece di magari di AP, tutto quello che, parlando di un 15-500 ad oggi sta ripartendo, cioè sta ripartendo nel senso si ha più interesse nel comprare AP rispetto a 3-4 mesi fa che nessuno voleva AP, perché pare che AP fosse stato quello con un crollo maggiore, un disinteresse maggiore rispetto a tutti gli altri. Anche Patek, comunque parlando di 5711, comunque parlando di Nautilus, è un orologio che è calato molto. Cioè, giustamente, perché aveva raggiunto dei valori senza senso. Esatto, era una bolla, palesimento una bolla, oggi siamo a valori abbastanza normali. Quando è il valore oggi più o meno? Oggi siamo sui 90.000, un 5711, già parlando di un punzone Patek, non punzone Ginevra che sono i primi prodotti, anche qui si prediligono gli ultimi, gli ultimi sono più quotati, gli ultimi calibri, quindi dal 2019 a fine 2019 sono quelli che vengono a costare di più e vengono più richiesti rispetto al 2008-2007 che sono i primi prodotti. Sai che questo è uno dei miei orologi preferiti in assoluto, sarà perché è legato a un ricordo importante, l'orologio che io ho regalato a mio marito per la nascita della nostra prima figlia, però tra tutti gli orologi che ho visto prima sul tuo bancone che erano molto di più rispetto a questi, avrei scelto questo ad occhi chiusi. Ad oggi sì, sicuramente è uno dei più venduti, questo insieme al 5712, parlando di Nautilus. Ma tu mi sembri invece più simpatizzante per Api perché te lo vedo tatuato. Io ho tatuato tutto. Ah ok. Irolet che Patek. Ok. Solo che Api è più visibile perché sono le iniziali del mio nome e cognome, quindi le ho messe esattamente qua, solo per quello. E parlando di Batman invece, giustamente ora è chiamato Batman anche la referenza 126, quindi non solo la 116 che ormai non è più in produzione, spesso mi chiedono ma cosa scegliere? 126 o 116, 7, 10? Io spesso rispondo 116 perché non è più in produzione, però anche qui torniamo un po' al discorso di prima che la tendenza invece è più verso quella recente, quella contemporanea. Allora, qui c'è una motivazione un po' diversa secondo me che può avere un senso. Diciamo che i GMT vengono preferiti Giubile. Certo, anche per me. Nella vecchia referenza non esisteva Giubile. Il Batman in teoria nasce come Batman, infatti la nuova referenza viene chiamata Batgirl. Quindi Batman è un Batman. In teoria sì, è il 116. Nasce così, a differenza del Pepsi che la prima referenza nasce solo Giubile e poi l'hanno introdotta Oyster. Però anche qua ci sono tante correnti di pensiero su Batman, Batgirl, potremmo aprire un forum solo per questo. Esatto. Comunque Giubile è tutta la vita per me. Per me è Oyster. Sì, davvero? Per me è Oyster. Bene, allora io vengo via col Giubile e tu stieni l'Oyster. Per me è tutti Oyster, tutta la vita. Per esempio anche lo Sprite è uno dei miei preferiti. Io poi indosso l'orologio sulla destra, quindi per me è perfetto. Sono molto felice di averlo in collezione. Anche lui ha avuto un botto all'inizio quando è uscito, costava tantissimo. Tipo 55. Tipo. Adesso mi sembra che stia scendendo. Oggi siamo sui 20 rispetto ai 55 che io personalmente ne ho venduti due su quella cifra là, appena usciti nel 2022. E adesso c'è interesse per questo? Te lo chiedono? Sì, ma viene preferito sempre il Pepsi, tutta la vita. C'è come richieste c'è Pepsi, Batman e forse Sprite è uno degli ultimi. Beh, ora Pepsi è un po' sotto i riflettori, insomma si vocifera una possibile uscita di produzione che chiaramente sono solo voci, non c'è nulla che è andato. Da un anno. All'anno scorso. Sì, sì. Invece qui vedo un altro orologio, secondo me, degno di una riflessione, il Deep Sea James Cameron, che è un orologio che io consiglio sempre a livello collezionistico, però non credo sia apprezzato nel modo giusto. Credo che sia un po' sottovalutato. Beh, è sottovalutato giustamente per l'importanza dell'orologio, la grandezza, le dimensioni, ovviamente non è un orologio a tutti i polsi. Certo. Sicuramente non è un orologio che vedere bene a una donna. Io lo portavo, sarà che io sono anche alta, non sono esile e non lo trovavo troppo scomodo, troppo ingombrante. Sì, teniamo presente che la media del polso anche degli uomini è 18. E su un 18 risulta tanto grosso questo orologio. Però anche a livello collezionistico trovo che sia poco ambito, anche come investimento, non sento un grosso interesse. È sempre andato sotto listino, sta tuttora sotto listino, a parte nel periodo del boom, dove si vendeva la qualsiasi over listino, e ad oggi è un modello poco capito. Il nero per nulla. Mentre questo qua, stiamo parlando di un orologio poco visto, il nero praticamente è quasi invendibile come orologio, nel senso... Sì, è più complicato. Però sai, quello lì, con il soprannome James Cameron, proprio perché abbinato alla figura di James Cameron, che lo ha portato nel punto più profondo della terra, degli abissi, con un colore del quadrante, così con questo blu degrade che ricorda l'oceano, io lo sento come orologio da investimento a lungo termine. Infatti noi lo abbiamo in collezione, è uno di quelli proprio intoccabili. Chissà se il tempo mi darà ragione, vedremo. Ecco, per esempio di questo hanno fatto tre serie, 116, 126 e 136. Beh, 136... Questo è 136. Questo è 136, quindi l'ultimo prodotto è un 2022, e il nero invece è un 116, 2013. L'altra volta ho provato il Rolex più grande del mondo, con un diametro di 5 centimetri, quello sì che è portabile. Sembra di avere una torta al polso. E quello ha anche, insomma, una... Beh, quella è una collezione pura. Credo che veramente quello sia importabile, anche per me che ho un polso in oro. Quello non è sicuramente un orologio da utilizzare. Però molto bello quello che è il polso, l'ultima referenza, così su iStarflex, molto bello. Io non sono una grande domanda di oisterflex, devo dire la verità, però su un polso maschile sta molto bene. A me l'oisterflex piace. Gli ultimi prodotti, l'unico che mi piace veramente tanto è questo qua, oro bianco nero. L'oro bianco io non l'ho mai considerato. Cioè, per me è sempre stato un orologio da non comprare, qualsiasi orologio d'oro bianco, perché se uno spende tanto per avere un pezzo d'oro al posto, secondo il mio punto di vista, deve avere un pezzo che si vede. Ci sta. Questo è il mio punto di vista. Ci sta. E mi sono dovuto ricredere con questo appena uscito col quadrante nero, che è veramente spettacolare. L'unico oro bianco che indosserei. Per me l'oro bianco della Rolex più bello di sempre è il Puffo, la referenza vecchia, precedente, 116 C619LB, che trovo stupendo. Un blu bello sia della ghiera sia del quadrante, un orologio che noi possediamo in collezione e mi piace metterlo, anche se oggi è un po' impegnativo per uscirci, però lo adoro con oro bianco. Quello con i diamanti? Lo senza? Sì, quello con i diamanti. Con i diamanti. Ahimè, sono colpevole. No, no, è l'unico che mi piace con i diamanti. Anche perché è poco visto, ce ne sono veramente pochi. Sia di acciai oro, sia di oro bianco, sia di oro giallo, sono veramente, cioè è veramente raro trovare una configurazione con i diamanti. Vero. Ne hanno fatti veramente pochi. Penso di averne avuti due nella vita in mano. Uno oro bianco e uno acciai oro giallo. Ecco, acciai oro io invece non sono una grande amante dei due toni. È sempre stato il tema discusso l'acciai oro. È un orologio che deve piacere, diciamo che è un orologio abbastanza avvistoso, senza magari spendere le cifre per un oro. Vero. È una via di mezzo che, diciamocela, di base è anche sotto l'acciaio. Ah sì. Quindi è l'alternativa economica, se vogliamo metterla così, di un detto l'acciaio. Ecco, a proposito di temi discussi, io ne ho selezionato uno apposta, proprio per creare una discussione, perché qui abbiamo un Cartier Santos che è stato customizzato con i diamanti, cosa che io adoro e ho fatto su uno dei nostri orologi in collezione, un Day Just. Abbiamo, come se vuol dire, tempestato di diamanti. Io lo adoro. Però, diciamo che è un tema molto contestato, perché decade di essere un Rolex in quel caso, in questo caso un Cartier, come si fa a rovinare un orologio così. Tu cosa ne pensi? Io penso che, ovviamente qua, si toglie da parte un attimo il collezionismo e c'è il piacere personale di portare un oggetto. Cioè, ogni tanto possiamo anche togliere questa cosa dell'investimento a lungo termine, del collezionismo, e comprare ciò che ci piace. Giusto. E hai tante richieste per i diamantati? Ne vendiamo, li abbiamo sempre in casa, Day Just, Cartier, li abbiamo sempre almeno due o tre. Li vendiamo 4-5 pezzi al mese. E su che valori siamo, per meno, per un pezzo così? Sui 15-16. Poi ovviamente dipende anche dalla qualità dei diamanti, chiaramente. Sono tutti... Sono orologio, ovviamente originale. Beh, certo. Quello in posti come questo non lo mettiamo neanche in discussione. Customizzato, prettamente li fanno a Dubai. Ovviamente viene a costare un po' di meno la customizzazione con dei macchinari appositi e non facendoli artigianalmente, perché sennò si sforrebbe il prezzo. Infatti qua parliamo di un orologio che comunque costa di listino quasi 9.000 euro. Eh sì. Giustamente i diamanti, che si parla circa di 15 carati, i G-Color di norma, ovviamente certificati e siamo già a un valore di almeno 5.000 euro di customizzazione. Questo è il lavoro e questo è quello che costa. Ovviamente è un oggetto che comprato per rivendere non ha un senso. È un oggetto che uno compra per godimento personale, lo usa, è simpatico. Non possiamo dire che è un pezzo da collezione, è sicuramente molto discusso nell'ambito di collezionismo di orologi, però noi li vendiamo. Ovviamente sono clientele spesso diverse da chi compra un orologio per investimento. Allora, ultime tre domande a bruciapelo. Sono un cliente che entra adesso nel tuo negozio. Ho un budget da 10.000, un budget da 20 e un budget da 50. Che orologio mi vendi? Allora, un budget da 10.000 ce l'abbiamo qua davanti il Dipsy Nero, 116. Sì, lo vuoi vendere perché hai detto che è invendibile. Perché è invendibile, solo per quello. No, perché si compra un professionale a un prezzo di un Submariner, anzi, sotto un Submariner nuovo. Sì, un Submariner diciamo 16612. parliamo di un orologio che ad oggi ha un listino di quasi 16.000 euro. Ok. Quindi io opterei per questo o per un classico 16610. Sì. Per iniziare. A seconda del posto. Io opto per il 16610. 16610 su un polso femminile, su un polso maschile importante consiglierei questo. Budget da 20.000. Budget da 20 ad oggi per gusto personale mio Hulk tutta la vita. Si risparmia anche qualcosa. Mi hai già convinta, va bene, lo prendo. Budget. Budget 50.000. E budget 50.000. Budget 50.000. a lui. Va bene. 15.500 blu. Va bene. Budget 50.000. Sicuramente una pinacciaio. Mettibile rispetto a un oro Daytona che oggi si trovano anche lì sui 50.000. Però un orologio che magari passa un po' più inosservato. Io un pochino più discreto. Rispetto a un Daytona in oro.